eeeh saluto amici recuperiani e bentornati in questo nuovissimo video come tantissime persone mi hanno chiesto eeeh nel tempo e bla 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 tantissime richieste di fare anch'io dei video che parlavano che mostravano le missioni come si facevano le missioni dato che sono una persona più o meno ordinato ho deciso di farla proprio dalla prima e continuare anche se sono le missioni più stupide però cercherò di spiegarvele al meglio che posso quindi ad esempio questa qui che la primissima missione che si chiama di di prapor che si chiama debut oppure debutto si dice in italiano e che cosa bisogna fare bisogna uccidere tre scava custom e portare a prapor tre tre fuscili mp 133 che gli mp 133 sono i classici fucili a pompa quelli col calcio arancione e la parte marroncina e la parte davanti idem non è il 153 che quello semi automatico ma è il 133 un classico fucile a pompa molla eeeh niente alla fine con questo video si vedranno un po di gameplay giusto per allungare un pochettino il brodo però c'è una cosa che in tantissimi non sanno che si vedrà un po alla fine quando completerò la missione questa settimana c'è questa settimana da qui a 10 giorni circa usciranno o 2 o 3 non prometto 3 2 sicuri due video sulle missioni sicuramente entrambi su prapor e in più forse qualcos'altro perché sono in spagna quando vedete questo videozzo e quindi niente eeeh avevo già promesso che avevo portato i video delle missioni mentre ero in spagna e così sto facendo purtroppo non sono i video cioè non non ne ho fatte quante ne volevo però cercate di capirmi ho pochissimo tempo e quando riesco a trovarlo faccio i video registro gioco tipo adesso sono tornato un po prima a casa quindi riesco a a completare tutti questi video prima che io parta eeeh niente qui siamo estratti ci siamo portati a casa forse i nostri scav forse i nostri fucili a pompa eeeh quindi niente qual è il segreto tra virgolette prapor richiede soltanto il pezzettino eeeh che rimane una volta rimosso tutto solo questo pezzettino quindi noi leviamo tutto eeeh così il resto lo vendiamo e noi a prapor chiediamo solo quel fucile a pompa quindi glielo diamo complete e la missione è fatta e la prossima missione sarà quella dell'orologio che la vedete la prossima settimana quindi niente ragazzi che dirvi io vi ringrazio tantissimo per la visione eeeh spero che veniate continuate a venire a venire intanto in live che ora in qualsiasi video vi lascerò come all'inizio di questo eeeh i giorni che vado in live più eeeh la mia paginina instagram che tempo fa mi fu stata richiesta e quindi l'ho fatta quindi niente io spero che questo video vi sia stato utile se magari prendevate il pompa io lo davate direttamente e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro tutorial sulla missione di prapor quella dell'orologio quindi niente noi ci vediamo alla prossima e ciao ciao